Benvenuti, benedizia! Siamo le sorelle Mondana e oggi parleremo di un argomento cari pasticcini pieni di ricotta di Maxine Giacomo, come avrete letto dal nostro titolo. Adesso facciamo partire la sigla e poi torniamo da noi. Allora ragazzi, come avevamo parlato poco fa, oggi parliamo di un youtuber che abita qui in Germania, che ha origini italiane, ma che è da tanto che comunque sia fa video su youtube, si trucca e se non erro, se non mi sbaglio, un makeup artist o comunque sia content creator o una frase del genere che io l'inglese non lo mastico e già due volte che esce delle limited edition insieme a Catrice. E adesso vogliamo un pochettino farvele vedere, le cose che ho comprato io è questa palette, mi faccio vedere anche il contenuto, lo vuoi far vedere tu? Aspetta, ti levo, no, vabbè lo specchio non può levare. Questi sono i belli colori. Ho preso due blush, due blush, ciao, due pennelli da blush o contouring, perché le setole sono morbidissime, e un pennello da cifria. E in ultimo, ma non per meno importanza, ho preso la Beckett Face Palette, quindi una palette tutta per il viso. Abbiamo illuminante, abbiamo il topper, diciamo, per sopra il contouring, abbiamo un blush, un blush matte e un blush luminoso. Adesso io e mia sorella ci trucchiamo insieme a voi, ognuno di noi usarà i stessi prodotti, più o meno, ma anche colore. Ma ognuno di noi si truccherà a modo suo, quindi a come gli piace di più. Questa palette è anche molto particolare, comunque sia, contiene anche tanti nomi molto carini, come Luna, Sis, aspetta che non ci vedo, 18.06, 5.00 AM, Forest, Deo, Spill Hit, che è sta cosa, non la so, Danny, che poi è anche il compagno di Maxime, e poi Community, perché comunque sia, lui ci definisce tutti una grandissima famiglia. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a truccarci. Allora, io inizio mettendo un po' di correttore sugli occhi. Sono dei pennelli. A presto, Sì, A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. E ora andiamo con 18.06. Un bellissimo verde che è i resti dorati. Molto figo. Un tutto ciò, cari amici, anzi pasticcini belli di zia ripieni. Che ne pensate del mio pigiamino codumbolo? Cioè sì, adesso ne sono a casa, mi dovrei sistemare per fare video almeno. Ma no, noi siamo così, acqua e sapone. Siamo fra di noi. Mail, telecamere, un casino di persone che vedranno questo video. Yeah! Allora, io base comunque sia non ne metto oggi per il fondotinta e vado già di fondotinta. One for all skin matcha. Sempre di The One Loves Me. Ed è questa luce, non si vede niente. Ora sì. Scusate per le mie unghie, ma sono orribili, io non ho unghie. A parte che per il lavoro che faccio non li posso tenere, ma poi faccio schifo da morire perché me le mangio tutte. Questo fondotinta è bello perché comunque sia è bianco come una crema. Io ne ho messa già abbastanza. Però al contatto con la pelle, massaggiando, si uniforma. Cioè, si diventa il colore della tua pelle, come se tu non avresti crema. Sembra che ti sei messo il fondotinta proprio perfetto del tuo colore. Sono carina. Questo pezzo è Sonja che mi ha morito alla terra. E' molto leggero. Lo sentiamo anche sul collo. Comunque, quello che ti stavo dicendo prima, le persone che ci guarderanno, i nostri pasticcini, ci vedranno certe volte anche in acqua sapone. Certe volte io penso che ci vedranno più in acqua sapone che altre cose. No, non è vero. Cioè, io amo il make-up. Prima esageravo tanto con la base, con tutto quello che dovevo mettere nel volto. Adesso, comunque sì, è un periodo, o sarà l'età, non lo so. Però mi piace quell'effetto, sì, truccata, ma nello stesso tempo naturale. Niente di esagerato. Come il glitterato sto usando ceo. Passiamo alle sopracciglia, se si aprisse. Questo è trasparente. E andiamo un pochettino a fissarle. Io già sono disfatta. Andiamo di blush, quindi usiamo il pennellino nuovo, di Maxime, e direi, dove andare di matto o di luminoso? Quindi andrò di luminoso. Pitch wipes. Pitch wipes. Come si legge sto coso? Penso che sia un pitch wipes. Dove c'è scritto? Di sotto. Pitch wipes. Wow. Innamorata. Passiamo ai consigli. E io vado già d'illuminante. E io vado già d'illuminante. Questo è il mio trucco finito. Mi piace moltissimo. Colorato. Luminoso. Mi sa che con questi video mia sorella imparerà tanto. Ma tanto. Perché non sa da dove iniziare e da dove finire. Ma da iniziare lo so. Dei finire pure. Ma è il modo come mi trucco che devo imparare. Con tutto ciò che dobbiamo dire. Quando io mi sono sposata. Il 18 di agosto. Di quest'anno. Il 2022. Però il giorno del mio matrimonio. Io mi sono truccata da sola. E mia sorella. Che è stata una delle damigelle. Si è anche truccata da sola. Quindi infine. Cioè. Di truccare. Si sa truccare. L'unica cosa che non sa. Cosa è. Che cosa. Cioè io li chiamo diversamente. No王. No. Non so non. Ieri. 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 Inī. Toby. Ann 갑자기. resisting attacks. che ha di si fece due canne e tannina sei un mondo fantastico è come si ha bisogno di scrivere e non è schietto grazie let's go mommy mio marito è arrivato ora dal lavoro che devi scongelare questo è carino Tu rientro, non mi dà un bacino Succo Allora ragazzi Io ho finito E questo è finale Che peggio Cari pasticcini Questo è il risultato Spero che vi piaccia Mettete un like Se ancora non l'avete fatto Seguiteci Condividete questo video Accendete la campanella Vi mandiamo un grosso dato Alla prossima Ciao Va bene Va bene Abbiamo staccato La sigla è finita La sigla è finita Ma che vi facciamo Il seno non c'è perché Il seno si arriva Spagami sta scoppando 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 Grazie a tutti.